Riduzione, ricerca dell'essenza e leggerezza. Viene dal 1938 e viene dalla distruzione di una radio regalo di nozze che era contenuta in una grande scatola di legno che mio padre ha distrutto per tirare fuori gli elementi essenziali. E quindi la radio è un'espressione della ricerca dell'essenza di un prodotto che vuol dire togliere invece che aggiungere, vuol dire semplificare al massimo e vuol dire anche inseguire la leggerezza come contenuto, come valore, come valore estetico. Mio padre diceva che aria e luce sono i materiali di costruzione e questo è rappresentato perfettamente da questi due agenti.